P2 che sono le mascherine, non sono neanche le FFP, queste sono le mascherine chirurgiche e queste sono quelle che secondo la protezione civile per noi vanno bene. Cioè si attaccano dietro gli orecchi, cosa sono? Te ne puoi rimettere lo SWIFT per un secondo, grazie. Ah SWIFT! Queste vanno bene per lavorare negli ospedali? Ma queste vanno bene per gli ospedali? Certo, per cosa ce li è andate? Noi abbiamo bisogno di 300.000 mascherine, la sparte non ci sta neanche. Questa è una mascherina? Capiamo le esigenze di tutti, ma quando si dice che queste qua possono andare bene per essere distribuite da una persona che va negli ospedali, perché noi per quello le abbiamo ricevute e le abbiamo distribuite, in maniera analoga a questa e in maniera analoga a questa. ditemi voi. Poi dopo io capiamo le esigenze di tutti, non vogliamo colpevolizzare nessuno, siamo in un momento difficile, ma che ci si dica che queste possono essere distribuite, date ai nostri infermieri e medici che trattano i pazienti Covid. Ma quindi non sono adatte? No, la valutazione la dovete fare voi, non la devo fare, non sono marchiate, c'è. Solo quelle? Solo quelle vi hanno mandato? Adesso sì, adesso sono arrivati 250.000. Ma voi le distribuirete lo stesso? No, le abbiamo ritirate chiaramente, queste non possono assolutamente essere utilizzate all'interno di un ospedale da un infermiero. Non le distribuirete? No, no, ma scherziamo.